Allora per le notizie dalla bassa frulana apriamo subito con la città di Latisana, festa dei fiori e selezione di Miss Italia ieri domenica 13 aprile 2014 nel centro della cittadina. Abbiamo sentito a riguardo l'assessore al turismo, attività produttive, Andrea Tognato. Festa dei fiori e Latisana 13 aprile 2014, una bella giornata, ne parliamo insieme all'assessore all'attività produttiva e turismo, Andrea Tognato. Come sta andando? Bene, direi che la piazza così piena significa che una seconda edizione ha mantenuto le promesse della prima edizione, significa che gli espositori hanno dato fiducia a noi, hanno dato fiducia alla nostra città di Latisana e grazie al Consorzio Ambulante di Prevenenza Giulia che ha collaborato per realizzare questa manifestazione siamo a goderci una festa dei fiori che vede una piazza piena e adesso ci approntiamo anche dopo una mattinata dedicata a un convegno sulle tisane e Latisana, anche questo è un progetto agrituristico che vedrà la sua luce nei prossimi mesi, ci prepariamo a gustare anche questa giornata nel pieno dell'esposizione, nel pieno del sole in questa giornata regalateci anche dalla meteorologia e che ci vede divertirci in piazza. Perfetto, siamo in reduci anche da un altro grande evento, facciamone un cenno, il concerto di Luciano Lega Bue tappa appunto nella bassa friulana, com'è andata? Benissimo direi, dopo 16 anni dalla realizzazione di questo palazzetto dello sport siamo riusciti ad avere, grazie al contributo della Zalea Promotion e del suo patron Loris Tramontin che è di Latisana siamo riusciti ad avere tra di noi un grande protagonista della musica pop italiana Lega Bue appunto speriamo sia il primo di una serie di concerti che riempiranno, illumineranno anche questo nostro palazzetto e siamo orgogliosi come amministrazione di aver dato l'astura a questo tipo di manifestazione. Ora invece verso le 15 sappiamo che partirà anche il concorso per la selezione di Miss Italia ce ne puoi dire qualcosa di più? Ah certo, anche questa è una grande occasione per la città di Latisana Moda Show con Michele Copitola e Paolo Arizzotti sono anche loro di Latisana e hanno dedicato questa prima selezione di Miss Italia 2014, Friuli Venezia Giulia, alla nostra città noi siamo orgogliosi di questa risorsa che viene messa a disposizione della nostra comunità e quindi siamo qua a godere le bellezze di questi fiori, tra i fiori che sono queste ragazze che spireranno per Miss Italia 2014. Grazie a tutti! Grazie a tutti!